buongiorno brighiele oddio mio avete preso paura scommetto mamma che capelli buongiorno brighiele si sono conciata stamattina una cosa allora non ho dormito nulla stanotte proprio sono le due e mezza e adesso le sei un quarto a rosveglia e si vede si vede tutta sta cosa buongiorno brighiele secondo blog ma oggi è sabato 12 dicembre niente stamattina porterò ale da mia mamma perché qua c'è il sciocco perché intanto faccio colazione perché vado con mia suocera dal parrocchiere io ho il mio di fiducia da anni che non mi vede da un pezzo come vedete però appunto voleva portarmi voleva portarmi da questo suo amico e quindi quale occasione migliore se non avvicinarsi del Natale per mettere a posto questi capelli non so cosa farò cioè ho un mezza idea ma di solito quando parto con mezza idea poi la cambio durante i minuti non le ore e ci vediamo dopo ok una fatica assurda stamattina per svegliare ale che non potete capire sta ancora scendendo le dovevamo essere già da mia mamma e devo ancora fargli il latte soprattutto allora sapete anche voi che vuole il latte buono guardate stupco stamattina mi sono superata ci piace ecco appunto ho detto che sono in ritardo sto cazzeggiando dopo mia suocera vedrà questo video e mi sgriderà ale vieni giù dai devo buttare via cosa dell'arancia adesso faccio il latte vabbè ragazzi è meglio come da giù perché sennò qua non combino più niente adesso ale mangerà il cioccolatino del calendario dell'avvento di mascia e orso prima il prima e dopo durante e durante dopo da paura mette me su cosa su youtube dopo se ti metto sul tuo canale sul tuo canale sul mio canale youtube hai un canale youtube ah si è di io che vabbè per lì in cui trucchi esatto davanti no io lei ho guardato i capelli di stregozza per i vapori del della città tinta, mamma mia. Beh, da te non me l'aspettavo. Ecco, da te non me l'aspettavo. Capelli fatti, adesso aspettiamo che finisca la nonna Paola. Siamo blondi. No, vogliamo tantissimi mi piace. Dove? Sotto al video. Ah, sotto al video. Sotto al video. Ci piace. Perché siamo blondi. Ciao. Balli. Come a fare questo! Merry Christmas! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh. facciamo vedere il nostro alberello bello bello l'alberello che bello l'alberello e qua la mamma ha appena comprato questi guarda gli uccellini ce ne sono quattro questo è il popa la mamma la duda e Ale con gli uccellini gli uccellini gli uccellini ma non si toccano non si tocca questo è ancora acceso non balli più Ale ma non si toccano gli uccellini ma cos'è che ti porta Babbo Natale? le caramelle le caramelle chissà cosa ti porta Babbo Natale amore hai visto che bene l'uccellino eccomi a casa qua sono già andati giù non tengono niente le pieghe in i capelli mamma che bionda mamma che bionda dovrò riabituarmi cosa c'è Duda? cosa c'è? cosa c'è? chiamore mio adesso Manuel si lava e devo capire ancora dove devo guardare adesso Manuel si fa la doccia e andiamo a vedere un po' di regalini che poi stasera siamo in giro eccoci qui partiti amore saluta non essere il solito qualsiasi che saluta saluta te Ale va là saluta le brighelle di ciao le brighelle ciao andiamo a trovare Babbo Natale adesso? no va bene niente cos'è che ti porta Babbo? no cosa ti porta Babbo? no per di là per di là eh sì ma adesso c'è anche di qua il Babbo non è solo per di là ma per di là ciao amore mio ciao ti piacciono i miei capelli? sì cos'è che hai detto che sembro? un cocker moio un cocker moio caro bene bene Manuel mi ha preso il regalo io farò finta di non averlo visto anche perché voglio che me lo incarti ovviamente e adesso andiamo a vedere il regalo di Manuel guarda che me lo devi incartare è un regalo è sempre cosa che ti incarta amore sempre il solito vulgare tappa a casa e adesso usciamo un'altra volta andiamo fuori al cinema sì male? bordo abrighelle sono stanchissima l'umidità mi ha già buttato i capelli non ho più niente in piega praticamente e niente dopo la mangiata che avete visto siamo a casa sono le 10 e 30 adesso struccaggio e ci provariamo per la notte e niente ragazzi spero di avervi tenuto compagnia e un bacio grande ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao